Scusate, già la volta scorsa perché uno è concentrato su cosa deve dire e quindi la registrazione parte solo da ora, scusatemi, abbiamo perso la prima domanda, ma la parte sui poll in realtà non era utile. Allora, scusate il disguido, vediamo la seconda domanda. Roberto mi dice, secondo me sarebbe utile per andare in conto a chi non è riuscito a seguire bene il laboratorio a mettere una risoluzione video dopo qualche giorno, come un esercizio sul libretto. Questa è un'idea, nel senso che noi abbiamo già pubblicato la soluzione, nel senso che il progetto direttamente su GitHub è risolto, possiamo capire se riusciamo a fare una soluzione svolta passo a passo, diciamo così, registrata in video. Questa è un'idea, è complesso perché è un'attività lunga, perché alcuni esercizi come questi sono molto rapidi, altri invece richiedono più tempo, quindi bisogna vedere che queste lezioni poi non diventino poi dei fiumi, noiosissimi, in cui vedi semplicemente delle scritte in eclipse. Questa però è una cosa che sicuramente ragioniamo tra di noi, se riuscire a farlo, magari in alcuni casi selezionati. Quindi grazie per il suggerimento. Lorenzo mi dice, durante la sessione di supporto della V1 ho posto una domanda in chat e purtroppo non ho ricevuto risposta, perché era tardi, essenzialmente non è stato un grosso problema, sono venuti a risolvere da solo. Potrebbe essere più comodo generare una sola stanza per le sessioni di supporto, le registrazioni, in modo che non vi siano domande che vengono perse. Quindi voi dite, facciamo sempre due gruppi, ma evitiamo quella interruzione artificiale che c'è a metà lezione, per cui si può essere, tra virgolette, sbattuti fuori e purtroppo zooma questo difetto che la chat viene resettata ogni volta. Questo credo che sia fattibile, lo possiamo fare. Tobia dice, ti trattare una data in cui si può fare consulenza, dividere in risolto orario e poi fare prenotazioni singole che tutti possono vedere. In questo modo si potrebbe avere consulenza one to one, per chi avesse problemi tutti sarebbero seguiti. Allora, la consulenza c'è sempre, ovviamente, continua a esserci così come ci sarebbe normalmente venendo in ufficio. Quindi io credo che, appunto, con la creazione del canale Telegram che abbiamo appena deciso, potrebbe essere quello il momento in cui magari ci accordiamo, magari su una consulenza, e a quel punto si registra una, si fisso una video call, cioè così individuale, in un orario che vada bene più o meno per tutti, o per le due persone coinvolte. Non so se fare un orario settimanale fisso di consulenza. Vediamo, se non ci sono tantissime richieste, secondo me è meglio andare one to one. Se invece ci fossero molte richieste, allora definiamo uno slot e all'interno di quello slot si fanno degli incontri di dieci minuti o cose di questo genere. Quindi questo lo possiamo fare sicuramente. Io direi, come dicevo, facciamo il canale Telegram e quindi iniziamo, quando avete domande, iniziamo da lì, iniziamo dalla chat, e se poi la cosa diventa, ci accorgiamo che è complicata, che richiede di vederci un attimo per ragionarci insieme, allora si pianifica una velocissima chiamata. Velocissima o no, cioè dipende dai casi. Quindi diciamo così una consulenza in generale. Ricordate, in generale sulle consulenze, cercate di usare GitHub il più possibile. Quindi per noi è estremamente difficile quando voi ci mandate uno screen, una fotografia dello schermo con il vostro codice, capire cosa avete fatto, cosa c'è prima, cosa c'è dopo. Questo l'avevo già accennato, ma lo ripeto. Quindi l'unico modo per potervi dare assistenza bene, due cose fondamentali. dateci tutto il codice, che avete scritto, di che compone il vostro progetto, e quindi la cosa migliore è fate un bel push su GitHub, sulla vostra area, ci date il link e noi ce lo andiamo a vedere. E la seconda cosa, scriveteci sempre il messaggio d'errore. Perché uno mi dice, ah, ho fatto un programma, ho fatto due modifiche e poi mi do un errore. Cosa posso aver sbagliato? Così, non ve le faccio vedere le mail per motivi di decenza, ma sono arrivate delle mail di questo genere, alle quali cosa puoi rispondere? Non lo so. Allora, è importante, anche perché è importante molto, anche nel corso, imparare a leggere i messaggi d'errore. Quindi, quando fai un errore in JavaFX, purtroppo ti sputa fuori tre paginate di errore in rosso, perché la stessa eccezione viene ripresa e rilanciata più volte. E allora puoi andare a capire in tutte quelle tre pagine qual è la riga che ti interessa, cioè dove sta davvero l'errore. E quasi di solito è verso il fondo, perché ti dà l'eccezione, questa è causata da un'altra, questa è causata da un'altra, e al fondo, quasi sempre, c'è il punto in cui si è scatenato il problema. Quindi partiamo così, chi ha bisogno di aiuto c'è il contatto in chat, su Telegram, perché creeremo il canale, il gruppo, perdon, e mettendo il link del progetto e il messaggio d'errore vero e proprio. E a questo punto possiamo fare consulenza individuale. Se vediamo, se mi accorgo che le cose, diciamo così, sono troppo... Se le richieste sono molte, allora organizziamo una parte di ore in aggiunta o in sostituzione a queste chat individuali. Volendo stare al passo con tutti i corsi, mi dice Enrico, ci sono tante videozioni da vedere prima del videochat o comunque prima del laboratorio. Prima di oggi avremmo dovuto vedere e capirne quattro, tra domenica e lunedì, solo di TTP. E tu pensa a me che le devo fare. Sì, è un casino. È un casino perché è il gioco dei tempi, che dobbiamo fare una lotta contro il tempo. Allora, se fossimo in aula, io quelle lezioni le avrei fatte lunedì, cioè ieri e questa mattina. E domani saremmo andati in laboratorio. Quindi in realtà non è che sia molto diverso. Questi argomenti dei video di questa settimana sono quelli previsti per le lezioni che avrei fatto lunedì, cioè ieri alle 13, quando era, e questa mattina alle 3 ore. Quindi alla fine il tempo è lo stesso e tra domenica e lunedì, sì, sono gli stessi giorni, diciamo così, con cui voi dovete in qualche modo, secondo me, riservarvi le ore che sarebbero state delle lezioni di TDP per guardarvi questi video. Purtroppo altri modi non ce ne sono. Io cerco di anticipare il più possibile, quindi pubblicare la settimana prima in vista del laboratorio del martedì, chiederele, però come dite voi che è difficile stare al passo su tutte le lezioni da vedere, è ugualmente difficile per noi stare al passo le lezioni da preparare in questo momento due corsi in parallelo e quindi la prima metà della settimana lavoro su uno, la seconda metà della settimana lavoro sull'altra, cercando di anticipare, ma è una difficoltà reale sia nostra che vostra. Io quello che cerco di fare è mantenere il video che registro, grosso modo, nelle 3 ore, massimo 4, in modo che possiate vederli in una quantità di tempo che è paragonabile a quella che sarebbero durate le lezioni in aula. Tenete presente che in queste prime settimane magari stiamo anche correndo un pochino di più, perché il semestre ha una settimana in meno, come avevamo già detto la volta scorsa, e quindi in qualche modo bisogna un po' recuperare la parte iniziale. Non so cos'altro dirti Enrico, siamo con te, nel senso che siamo tutti nella stessa barca. Alessandro mi dice volevo proporre, se fosse possibile, posticipare la pubblicazione del nuovo laboratorio al giovedì o comunque un altro giorno dopo quello del laboratorio per avere più giorni di sfogliazione per svolgere la possibilità della pubblicazione del nuovo laboratorio il giovedì per avere più giorni. Ah, ok, anticipare, non posticipare. Nel senso, ho la soluzione, ecco, non so bene di cosa parlo. Cioè, noi normalmente abbiamo pubblicato il testo del laboratorio 2 che per domani l'abbiamo pubblicato ieri, a lunedì, quindi dal lunedì a mercoledì. Tu forse vuoi dire anticipare il testo, quindi non pubblicare il testo lunedì, ma pubblicarlo magari il giovedì o venerdì precedente. E il posticipare, che non capisco. Ok, quindi pubblicarlo non lunedì, bensì magari il venerdì precedente, chiaramente senza che, come dite voi, senza accavallarci con l'esercizio precedente. Questo si può fare, mi sembra facile da fare. Sì, così avete anche il weekend per svolgerlo, qualche giorno in più. Sempre il tutto ovviamente si accavalla con i video, perché magari nel laboratorio ci sono alcune cose da fare che vengono spiegate proprio in quella settimana. quindi tutto abbastanza concentrato. Alla fine io credo che questo corso, per l'orario che ci hanno dato, è tutto sempre concentrato nei primi due giorni della settimana. Sì, è la stessa cosa che mi dice Matteo, che queste video azioni alla fine si accumulano, cioè tendiamo, il ciclo della settimana inizia giovedì, venerdì, cominciamo a pubblicare dei video, a questo punto pubblicheremo anche il testo, e si chiude il martedì, mercoledì, la settimana successiva, con la chat e il laboratorio. E quindi la massima densità di impegno, quando c'è tutto il materiale pronto, c'è da prepararsi, c'è da studiare per il laboratorio, sarà nei primi giorni, che sono i giorni in cui c'era una lezione nel corso. Quindi, io non so quale sia la vostra stima, la mia stima è fare una lezione in video, costa circa il triplo del tempo rispetto a farla normalmente. Immagino anche per voi seguirla, magari non il triplo, ma il doppio, perché un conto guardi il video, poi magari lo riguardi, poi lo devi capire, poi devi fare domande. Sì. Altre domande? Quindi, risumendo, le due cose importanti, le tre cose importanti sono, per il momento, il gruppo Telegram, anticipare la pubblicazione del testo dei laboratori al venerdì precedente, e poi attraverso Telegram chiarire che è sempre possibile chiedere consulenze anche individuali. Altre domande? Sì, ah, Federica, scusa. Sarebbe meglio dichiarare l'interfaccia generalista e poi nel costruttore creare la classe specifica. In questo caso non si perderebbero i metodi specifici della classe. Non ho capito bene. Proviamo a lavorarci insieme. Allora, fammi condividere lo schermo. Dove è andato a finire con il maledetto? Condividi lo schermo. Questo. Quindi noi, questo è semplicemente un blocco, un editor di testo, per capirci. Quindi io quando dichiaro una lista, definisco sempre list, che ne so di, parliamo voto, che era l'oggetto dell'ultimo esercizio, voti uguale new, punto e virgola. La dichiaro dentro una classe, magari class esercizio aperta graffa. Ok. Chiusa graffa là sotto. Quindi io dichiaro questo oggetto, che è una proprietà privata della lista, facendo riferimento all'interfaccia list. L'interfaccia list, nelle collection, definisce tutta una serie di metodi, ovviamente. quando poi creo, magari nel costruttore, public, esercizio, aperta e chiusa tonda, aperta e chiusa graffa, definisco dentro il costruttore, l'effettivo oggetto, quindi dis.voti, uguale, new, array list, di voti, voto, aperta e chiusa tonda, sto creando un oggetto di tipo array list, ma la classe array list implementa l'interfaccia list. quindi ogni volta che ho una classe che implementa un'interfaccia, questa classe è obbligata, altrimenti ti dà errore Java, è obbligata a implementare, a fornire un'implementazione di tutti i metodi che sono dichiarati a livello di list. Quindi ogni volta che istanzi una classe, se voi andate a vedere la definizione di array list, dice array list implements list, implementa l'interfaccia lista. Allora, questo vuol dire che nella definizione chi ha scritto il codice di array list ha creato l'implementazione di tutti i metodi che nella interfaccia list erano stati dichiarati. Quindi l'interfaccia dice guarda che tu per essere una list devi avere questi metodi. L'interfaccia dice solo quello, dà degli ordini, dà uno schema, dice tutti, per aderire a questa interfaccia questi sono i metodi necessari che è necessario implementare. Quando definisco una classe non ancora un oggetto, una classe che implementa un'interfaccia, nel corpo di quella classe deve esserci l'implementazione di tutti i metodi. Quindi quando io creo poi un oggetto a partire da quella classe, quell'oggetto avrà tutti i metodi ovviamente definiti nella classe e quindi tutti i metodi che erano definiti a livello di interfaccia. Anzi, di sicuro ci sono tutti i metodi definiti a livello di interfaccia, può esserci qualcuno di più, perché nella classe io posso anche implementare altri metodi, nessuno mi vieta di implementare solo quelli di interfaccia, ma sicuramente quelle interfacce ci devono essere tutti. Quindi il timore che tu avevi, se ho capito bene la domanda, di perdere i metodi specifici della classe non c'è. La classe può avere, deve avere tutti i metodi dichiarati in interfaccia e può averne degli altri in più. Spero che fosse questo il tuo dubbio. Matteo mi dice, riguardo le strutture già inclusi negli esercizi laboratori ho notato che variano di molto gli esercizi e gli esercizi. La scheda che abbiamo di disposizione è prima gli esercizi è direttamente la GitHub. Volevo chiedere se è dovuto solo al fatto che all'inizio del corso e quindi aggiungiamo un elemento praticamente e sarà arrivato all'esame senza sapere che struttura iniziale ci sarà data. No, in realtà noi partiamo sempre da un progetto che è essenzialmente creato a partire dall'archetipo Maven che ha tutte le le librerie incluse e quindi ci sarà sempre l'avvio dell'applicazione grafica poi ci sarà sempre una classe controller sempre una classe model e poi ovviamente da lì in poi cambia. Però la struttura generale sarà sempre questa oramai siamo assestati su struttura model view controller e quindi i progetti diciamo i progetti di base i progetti di partenza che vi forniamo nei vari laboratori e che poi ci saranno all'esame hanno tutti la stessa struttura poi aggiungeremo ancora dei package per l'accesso al database ovviamente aggiungiamo però alla fine la struttura è sempre la stessa ci sarà il main che chiama che attiva l'interfaccia c'è l'FXML che continua la vista ci sarà la classe controller che inizialmente magari è vuota nel senso che poi i metodi li dovete costruire voi sia nel laboratorio sia all'esame e poi ci sarà un package model all'interno del quale andare a inserire gli oggetti gli algoritmi eccetera eccetera quindi lo stiamo ovviamente costruendo poco per volta ad esempio l'esercizio che sto facendo sul libretto voti sono partito da una classe vuota nel model non ancora collegata al controller ma all'interno del progetto diciamo con le strutture è sempre la stessa su allora ci sono due domande su Github come faccio a fare confronto tra il branch soluzione e il mio svolgimento non riesco a fare forza sulla soluzione e l'altra domanda è ho importato il progetto Github ed era già immagino che volsi scrivere era già fatto era già finito sì allora io ieri avevo un piccolo dilemma e ho deciso di fare commit direttamente su Github della soluzione dell'esercizio già finito perché non avevamo ancora parlato dei branch in Github e quindi non volevo complicarlo troppo quello che potremmo fare normalmente quello che possiamo fare io potrei lasciarvi pubblicare così come viene fatto fatemi prendere Github un secondo se non ce l'ho già sì è già qua ad esempio andiamo a prendere il laboratorio 1 che mi pare sia fatto così già il laboratorio 1 eccolo qua ok e vedete che questo laboratorio nei branch ci sono due branch uno chiamato master e l'altro chiamato soluzione quindi normalmente nel branch master c'è solo il testo mentre se volete vedere la soluzione dovete andare nel branch soluzione e lì si vede che ovviamente ci sono dei commit in più che sono quelli che costituiscono la soluzione rispetto al branch di partenza quindi potrei adesso per il primo esercizio di libertà di voti non l'ho fatto ho semplicemente fatto il commit così com'era del progetto al termine della della situazione potrei in futuro fare seguire la stessa la stessa logica fare un branch master che contiene solamente il progetto base e poi un branch soluzione che contiene la soluzione che via via viene 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 svolta quindi da adesso in avanti diciamo così dalla prossima puntata del libertà di voti posso fare così e magari cerco già di riorganizzarlo già adesso quel progetto su GitHub l'unico problema è che nel momento in cui voi fate fork di un progetto il vostro progetto copia la versione attuale del nostro progetto il progetto del repository del repository comune del corso e tutte le modifiche che vengono fatte successivamente a questo TDP laboratorio 1 non vengono replicate nel vostro fork nella vostra area quindi non potete più vedere quindi se volete diciamo così immaginiamo esce l'esercizio laboratorio 2 ok per poter fare l'esercizio voi lo scaricate vi fate un fork ve lo cronate su vostro computer lo importate in Eclipse e cominciate a lavorarci il fork di questo progetto oggi laboratorio 2 ha solamente il master ovviamente la soluzione non l'abbiamo ancora messa quindi voi non la potete ancora vedere quando settimana prossima metteremo questa soluzione questa soluzione sarà pubblicata qui ma nel vostro fork non ci sarà perché nel momento in cui fai il fork le due cose divergono allora potete andare a vedere qua semplicemente confrontarla oppure potete semplicemente clonare il laboratorio 2 con già la soluzione dentro in un altro in un altro progetto Eclipse e poi confrontarli direttamente su Eclipse oppure dovete rifare un fork nuovo per riuscire a prendervi anche la versione con la soluzione purtroppo non c'è modo di mantenere sincronizzati due repositori remoti uno è quello condiviso e l'altro è quello vostro o meglio il moto c'è ma è molto complicato quindi dovrebbe dire il vostro progetto Eclipse che ha due remoti e fare pull da uno oppure l'altro si può fare però richiede un po' di ginnastica l'altro dubbio che potete avere è sì ma come faccio supponiamo di avere già il progetto con i due branch con le due soluzioni come faccio a passare da uno all'altro e confrontarli allora questo lo posso fare direttamente in Eclipse allora vediamo sul laboratorio 1 vi faccio vedere come si fa che ha già i due branch con le soluzioni allora mi faccio in questo caso un clone non ho bisogno di fare non ho bisogno di fare un fork perché io questo progetto lo posso vedere ma se no voi fareste un fork lo importiamo in Eclipse ok avanti e vedete che quando lo importo in questo caso vedo già che ha due due branch io posso importarli entrambi infatti lui vuole sempre mettere dove io non voglio quindi lo sposto dall'altra parte ok avanti un po' di pazienza come sempre ok ok avanti perché mi dici così avevo già un progetto che si chiama così perché mi fai così mi dici così non mi lasci fare le cose vabbè ah qua qua scusate si chiamava parole perché proprio si chiamava parole ok allora questo è il progetto che in realtà avevo già quindi fatto un clone per nulla chiudiamo questo che era l'altro questo è il progetto del laboratorio 1 parole ok e come vediamo è il progetto vuoto nel senso che tutte le classi vuote perché questo è il branch master se io voglio vedere la soluzione beh innanzitutto devo essere sicuro di avere l'ultima versione e quindi in questo caso faccio un bel pool per essere sicuro in questo caso mi dice guarda non c'è nulla di nuovo quindi vuol dire che il pool l'avevo già fatto e poi io posso switchare team switch to quindi cambiare branch menu team voce switch to other e mi fa vedere i branch verso cui posso switchare però non è quello giusto scusate no non è quello giusto facciamo una cosa vi chiedo solo due minuti di pazienza fatemi cancellare tutto e rifacciamo l'import che volevo fare prima che questo probabilmente era un progetto intermedio che però non era quello definitivo e quindi ok adesso sì e poi cancelliamo cancelliamo tutto questo così come ho stiamo facendo il clone dal progetto che viene scaricato praticamente con un fork ok finalmente posso importare il progetto allora torniamo a dove eravamo dieci minuti fa il progetto nel branch master è il progetto iniziale se voglio vedere la soluzione vado nel progetto team switch to e ci sono i vari branch che ho attualmente aperto e dovrei poter vedere qua se vado in altri mi dice che ci sono dei branch remoti branch locali c'è master per il momento è solo questo ma i branch remoti che ci sono sono due master oppure soluzione rifaccio i passaggi così non sbagliamo menu tasto destro sul progetto team switch to il menu switch serve per cambiare da un branch a un altro ok quindi new branch crea un nuovo branch se voglio lavorare se siamo su un percorso parallelo oppure seleziono il branch verso cui voglio spostarmi in questo caso master deselezionato è grigio perché sono già in quel branch lì se no ci sarebbe qua l'elenco di tutti i branch che voglio spostare se ne voglio uno che non è ancora elencato qua lo posso andare su other e mi fa vedere sia i branch locali sia i branch remoti dei remoti che ho collegato in questo caso io voglio switchare su un branch soluzione e qua sotto c'è il bottone check out che mi permette di check out quindi tirar fuori dal reposito e riportare nelle working copy il branch remoto la prima volta mi dice cosa vuoi fare vuoi fare in modo che il branch soluzione che stai guardando venga replicato come un nuovo branch locale sì l'alternativa è venga tirato fuori come commit cioè una sorta di mi copio i file nuovi però li copio all'interno dello stesso branch master in cui sono però non mi permette di andare avanti e indietro quindi check out new local branch sì come vuoi chiamare il branch locale lo chiamo nello stesso modo finish ecco questo l'ho fatto per la prima volta e vedete che adesso il branch qua è diventato soluzione quindi il file il parole punto java che prima era vuoto adesso contiene la soluzione e a questo punto io posso switchare quando quante volte voglio dal master dove la classe è vuota alla soluzione team switch to soluzione e una volta che ho fatto il check out del branch per la prima volta l'operazione è istantanea perché praticamente git deve semplicemente copiare i file dal repository locale al work track di eclipse quindi una cosa istantanea dopo che per la prima volta ho scaricato il tutto a questo punto voi potete avere in questo progetto sia il punto di partenza che la soluzione volendo con un setup un po' più complicato potete avere tre branch diversi che sono il master la vostra soluzione e la soluzione che è stata pubblicata e quindi puoi poterla confrontare a tre è anche possibile sempre nel menu team andare a chiedere di confrontare ad esempio una classe adesso vedo compare with ad esempio qua sono ho preso parole punto java e posso chiedere confrontamelo con un altro branch ad esempio il branch master e mi fa vedere se faccio confronta compare affiancate le due versioni quindi di solito in verde ciò che ho aggiunto qui c'è la versione local quindi quella è la soluzione quella a destra era quella del master e quindi era il testo in verde sono le aggiunte in grigio sono le cancellazioni le differenze che via via ci sono su singoli file quindi è possibile anche andare a vedere in parallelo le modifiche che sono state fatte questo ovviamente confronto in parallelo non ha molto senso farlo tra la nostra soluzione e la vostra soluzione perché probabilmente saranno anche parecchio diverse quindi non ha senso andarle a confrontare punto a punto ma può essere utile per capire che modifiche sono state fatte rispetto all'ultima versione come vedete questo menu di confronto ti permette di confrontarlo con un altro branch oppure con una versione previsual vision con una versione precedente di questo file quindi tu l'altro ieri ci hai lavorato adesso non funziona più niente ma caspita che cosa ho modificato ieri allora se mi sono ricordato di fare commit in mezzo posso andare qua a riprendere quelle che sono le versioni precedenti oppure un commit specifico dalla storia dei vari commit di questo file in questo caso ce ne sono solamente due quindi potrei solamente tornare quello precedente ma altrimenti potrei tornare indietro alla versione tre giorni fa confrontiamolo e così capisco eventualmente che cosa ho sbagliato perché non funziona più o perché invece questa funzionalità adesso c'è prima non c'era è molto utile soprattutto se lavorano più persone sul stesso progetto così vedi cosa hanno fatto gli altri come sempre mantenere in mente un progetto è complicato mantenere in mente più progetti diversi o meglio più versioni diverse del stesso progetto la mia la soluzione la tua non è banale quindi dovete aspettarvi che non basta schiacciare un bottone bisogna poi ragionarci sopra però gli strumenti ci sono essenzialmente l'unica cosa scomoda è che quando avete fatto il primo fork poi non potete più avere degli aggiornamenti sul progetto base a meno di non aggiungere un secondo remoto cosa che magari magari possiamo anche poi vedere successivamente con un approfondimento una delle idee che avevo tempo permettendo è magari di preparare anche su queste cose qua pratiche anche dei brevi video di approfondimento delle pillole del tipo per fare il minimo per seguire il corso di sviluppo dei laboratori magari ci sono cose che non servono magari potrebbe essere un passettino in più come fare gestire più remoti e quindi poter confrontare le cose allora immaginando come breve pillola video extra c'è un momento tra quattro argomenti diciamo così durante il corso che potrebbero essere gestiti in questo modo chi è interessato se la va a vedere altrimenti sappiamo che non è parte del contenuto principale del corso se volessi risalire mi chiede Leandro alla versione vuota iniziale dopo aver già scritto la mia soluzione vado a creare un nuovo branch di S allora creare i branch retorativamente è possibile ma è sconsigliato come sempre il senno di poi dovrebbe venire prima allora in teoria ciò che dicono coloro che lavorano veramente con git non si lavora mai nel master il master serve per raccogliere le varie versioni consolidate quindi il master è lì è vuoto e poi creo un branch separato e lavoro in quel branch poi se voglio lascio quel branch e poi posso fare un'operazione di merge cioè in cui riporto le modifiche del branch all'interno del master se vogliamo che il master evolva quindi normalmente quello che dicono è che i commit non avrebbero mai fatti direttamente al master ma in un branch così in ogni momento posso tornare indietro anche se non facciamo dei workflow così complessi si può comunque tornare indietro adesso qui siamo tu mi dici guarda io ho già fatto dei commit però vorrei tornare alla versione vuota come faccio a tornare a una mia versione precedente questo si può fare è sempre un'operazione di dunque come lo chiama lui sempre switch to a questo punto non su un branch ma su un commit specifico quindi switch è l'aggiornamento della working copy rispetto a che collega questa è tutta la storia di questo repository che ha avuto tra l'altro una storia un pochino travagliata perché all'inizio avevamo caricato la versione sbagliata e io se volessi tornare a un branch precedente supponiamo questa lo posso selezionare e a questo punto mi verrà sostituito con un warning abbastanza pesante dice attenzione che qua anche macabro vuol dire detach the head testa staccata sembra che mi abbiano decapitato perché mi dice guarda che tu sei tornato indietro a un commit ma quel commit non corrisponde a nessun branch quindi quel commit lì lo puoi guardare ma non pensare di farci delle modifiche perché non essendo legato a nessun branch perché il master da una parte la soluzione dall'altra tu sei in un punto intermedio quelle modifiche lì non c'è modo di raggiungerle perché saranno modifiche a un commit intermedio che creeranno un altro sotto commit laterale che però nessuno riesce a vedere quindi se vuoi fare le modifiche crea o fai il check out di un branch prima quindi a questo punto ti dice se vuoi guardarlo va benissimo se vuoi modificarlo a questo punto sei su un commit vecchio adesso su questo la prima cosa che devi fare è creare un branch e poi puoi fare il commit all'interno di quest'altro branch e eventualmente questo branch farlo riconvergere e quindi mi permette di fare questo se c'è già un branch è chiaramente molto più comodo se invece non c'è lo potrei fare adesso ho fatto questo commit e potrei a questo punto creare un nuovo branch che è basato su questo commit su questo commit precedente e poi posso andare avanti da lì quindi vado a ripescare un punto precedente nella storia e da lì divergo e prendo un nuovo percorso su un nuovo ramo quindi è possibile un po' bisogna fare un po' attenzione a non perdersi perché altrimenti ti trovi con delle modifiche che non riesci più a salvare perché non puoi andare a riscrivere la storia di un branch che è già andato avanti ok il master è andato avanti su sei tornato indietro non puoi più dire adesso poi modifichiamo qualcosa che nel frattempo è andato avanti no posso semplicemente modificarmi lateralmente non è banale se volete ci sono dei libri interi su git possono portarci a fare delle cose anche molto complesse non è del tutto intuitivo quindi Enrico mi dice quindi questa è la risposta è andato posso tornare indietro la versione vuota però subito dopo se voglio lavorarci faccio un branch è meglio se il branch lo faccio subito prima di lavorare cosa che io non ho fatto ieri sui restituzioni vuoti proprio perché tutto questo discorso sui branch non l'avevamo ancora fatto e quindi temevo che avessero avuto visto il progetto ma dove è finita la soluzione ma adesso in avanti lo sappiamo Enrico invece mi chiede se puoi importare solamente il branch e la soluzione nel progetto di cui hai fatto il forco e quando viene pubblicato solo il testo sì si può occorre aggiungere un secondo remoto facciamolo dai allora adesso ricancello questo progetto e riparto da capo perché devo fare un fork per vedere come avviene la cosa ok allora io ricancello il progetto riprendo il laboratorio 2 il laboratorio 2 che perché facciamo finta è il laboratorio 2 allora vediamo come comportarci normalmente il laboratorio è qua io mi faccio il mio fork e in questo momento c'è solamente il testo ok quindi mi faccio il mio fork , lui sta pensando mi crea il mio fulvio corno laboratorio 2 io questo me lo posso clonare e quindi ci lavoro localmente in Eclipse quindi lo importo questo progetto laboratorio 2 che è ovviamente il mio personale e qui ci sarà solamente il testo c'è solo il master lo faccio mettere dove voglio io ok e dovrei importarmi il progetto ho provato ieri sera quindi spero di no ok eccolo qua alien si chiama e ovviamente il progetto vuoto adesso ci voglio lavorare la lezione la lezione che abbiamo imparato oggi è ci voglio lavorare ma non lavoro nel master il master lasciamolo lì così ci posso tornare indietro il progetto vuoto quindi creo un nuovo branch un nuovo branch mia soluzione e se voglio questo branch può rimanere un branch locale basato sul master quindi che cosa sto facendo divergere sto facendo divergere il percorso del master in questo punto in un branch diverso separo il master in due percorsi posso far sì che questo branch sia solo locale su questo computer oppure posso collegarlo anche a github quindi configure upstream for push and pull questa frase che non si capisce cosa vuol dire vuol dire in realtà vuoi configurare il repository remoto per il push e il pull su questo branch quindi vorrà dire che questo branch posso salvarmelo anche su github fondamentale perché se poi volete farmi vedere il codice che avete condividito con qualcuno non potete averlo solamente sul vostro computer e vabbè qui dice quando faccio pull come fare a fondere le modifiche ma va benissimo check out new branch vuol dire che questo branch l'ho creato e passo immediatamente dentro quel branch lì quindi adesso ero dentro master è scritto qua faccio finish passa dentro mia soluzione e dentro mia soluzione posso posso lavorare posso modificare quello che voglio quindi diciamo così soluzione magari il titolo della finestra soluzione esercizio alien e quindi tranquillamente posso fare commit come sempre e push quindi faccio commit delle modifiche che in questo caso ho modificato solamente entry point punto java mettiamo anche il git ignore che ci sta bene titolo finestra commit and push quindi lo salvo e faccio il push su cosa sul repository fulvio corner slash lab02 su quello mio privato in un branch remoto che si chiamerà mia soluzione perché non c'è nessun motivo per chiamarlo in modo diverso rispetto al branch locale quindi sto facendo un commit nel branch locale l'ho già fatto in realtà e adesso sto facendo push di questa versione dal branch locale a un branch remoto vado avanti speriamo che funzioni non dice che non ce la fa sono problemi di rete secondo me perché fai antipatico adesso in diretta ok l'ha fatto quindi ha problemi intermittenti di rete in questi giorni la rete sappiamo tutti come sta andando allora se io torno su github faccio un refresh un aggiornamento di questa pagina fulvio con lab02 vedo che ho due commit di cui c'è però guarda qua il mio commit non lo vedo qui perché qua qui sono nel master lui gentilmente github mi dice guarda che c'è un branch nuovo allora infatti se posso switcharci questo branch vedrò la modifica che ho fatto titolo finestra qua dentro a un certo punto me la dà titolo finestra è stato modificato questo file qua quindi nel mio repository ho i due branch quello col progetto vuoto e quello col progetto con cui sta lavorando la mia soluzione e fin qua tutto bene la settimana prossima Tatiana Tommasi pubblica la soluzione dell'esercizio 2 come faccio a importarla in questo progetto che era la domanda scusate se è stata una grossa interruzione ma adesso arrivo al punto della domanda allora per far questo è possibile avere più di un remoto per un determinato allora fatemi vedere dov'è perché ogni volta credo che sia qua ok 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 allora ho aperto una vista che si chiama da qua ok team mostra il progetto nella vista repository la vista repository adesso la ingrandisco un pochino qua sotto mi fa vedere tutti i repository che sono attualmente nel workspace in particolare questo qua del laboratorio 2 laboratorio 2 in questo modo branch mia soluzione mi fa vedere tutti i branch locali tutti i branch remoti e così via e soprattutto quello che ci interessa in questo momento è working tree che sono i file correnti e ci interessa remotes remotes vedete che è plurale cioè i repository remoti con cui sono sincronizzato e in questo caso sono sincronizzato col repository fulvio corner lab02 in push e in pull vedete la frecciolina verde che scende giù che è il pull la frecciolina rossa che va in alto che è il push io quello che voglio fare adesso è riuscire a fare il pull di un branch nuovo quando ci sarà da un altro remoto dal repository remoto che è quello tdp2 in a20 allora lo posso fare lo posso fare purché aggiungo un secondo remoto quindi qua posso creare un secondo remoto cioè io ho una working copy locale che però è collegato con più repository remoti diversi il repository di remoto principale ha come nome predefinito origin se aggiungiamo altri remoti gli diamo noi il nome che vogliamo e quindi possiamo chiamarlo diciamo così quello condiviso del corso configure push no perché non devo fare push però voglio poter fare fetch che fece l'operazione preliminare al pull cioè scarica il file nuovi quindi creo un nuovo remoto lui mi chiede dove allora vado a prendere la url di questo repository remoto e la modifico l'aggiungo qua e poi posso quindi questo change ho messo la url che prima non c'era salva e prendi le modifiche allora con questa operazione ho aggiunto un repository un secondo repository al mio origin e quindi a questo punto nel mio progetto potrò fare check out ok l'ho fatto potrò fare check out di un branch in uno qualunque dei remoti quindi team switch to other e posso andarmi a scegliere i remoti di condiviso o di origin in questo caso non c'è ancora soluzione diciamo che la settimana prossima qua in questo remote tracking ci sarà anche condiviso slash soluzione faccio check out di questo e vedo la soluzione nel mio progetto poi faccio check out di mia soluzione e li posso confrontare come abbiamo visto prima importare uno guardare l'altro così via quindi diventa un unico working space il mio progetto che ha accesso sia al mio repository con le mie modifiche sia il repository condiviso con le modifiche condivise in particolare con la soluzione è un po' delicato come setup perché bisogna creare secondo remoto e fare attenzione a questo punto quando fai push quando fai pull di farlo su origin e non su condiviso però fatto questo funziona bene nel senso che è possibile per un singolo repository fare più remoti poi volendo puoi anche fare check out da uno e poi fare push sull'altro perché se vuoi riportarti il branch nel tuo progetto ma direi che normalmente non è necessario quindi un po' complesso però si può fare tranquillamente altri dubbi? per il capitolare se non ci sono altri dubbi l'appuntamento è per domani come dicevamo a gruppi invertiti quindi il primo gruppo MZ e il secondo gruppo AL cerchiamo di fare in modo di mantenere una connessione unica e non interrompe la connessione dopo le tre ore però questo non prendetelo come una scusa per dormire fino alle 11.20 e collegarvi gli ultimi tre minuti ecco nel frattempo creiamo questo gruppo Telegram che può essere di supporto in tutti i momenti della settimana in cui non c'è chiaramente il laboratorio non c'è la video chat per domande e non non siate timidi a rispondervi tra di voi perché se il canale Telegram diventa un canale di domande e risposte in cui la risposta la devo dare sempre io dubito che riesca a poter rispondere essenzialmente a tutti sempre in tempo adeguato quindi è un gruppo è un gruppo tra persone che può essere usato sia per dubbi tecnici sul corso sia anche per problemi organizzativi io usarò poi sicuramente per ricordare i vari appuntamenti va bene con questo direi che in assenza di altre domande se non ce ne sono io vi saluterei fino a rivederci la settimana prossima stesso luogo stessa ora quindi martedì alle alle 11.30 come oggi e a rivedersi invece domani per il laboratorio per l'attività del laboratorio numero 2 dalle 8.30 in avanti grazie a tutti allora come si dice abbiamo finito dieci minuti prima potete andare a prendervi un panino diremmo in aula ci vediamo la settimana prossima grazie per l'attività per l'attività per l'attività